Ha cospirato per mettere una bomba al Centennial Park. No, signora. Un film di Clint Eastwood. Io riporto i fatti. Basato su una storia vera. Ha rovinato la vita di quest'uomo. Contrattacchiamo, sei pronto? Richard Jewell. Il mondo conoscerà il suo nome e la verità. Dal 16 gennaio al cinema.